Fox, mouse abuse, ehi lui, ma il mouse accetta di essere abusato Ok ragazzi, quindi abbiamo trovato un ciccione che usa autoplicker Volt Andiamo a fargli un controllino Bondi Come andiamo? No, capisco Ora andrà peggio Hai 30 secondi Lo sai, mi riesco Ok, beh è uscito così tranquillo Tempo ban Ammissione Utilizzo Ok Buono Ok ragazzi, quindi ci sta questo ragazzotto qua, Fontelia, che sta fleggando un po' di riccio Andiamo a fargli il controllino Ciao, sei vivo Ehi ciao Non sluggare Hai 30 secondi per dare Ehi, adesso come è, rifiuto, controllo E non rifiuto Ok no Fare il bridging in questo modo, è pare che è strano No, è strano Bye bye Dagnale Sedevo tutto il momento Bella per Dani Come andiamo? Ottimamente bene Ci sta Ora andrà male Passa in desk Hai, 20 secondi Snog Non le ban Torni di non città Ma come questo è sbannato E controlla Ma come questo è il gioco Sì, come questo è il gioco Sì, come questo è il gioco Da sempre Hai, passa in desk Fantastico Ottimo Fantastico Ci siamo Cominciamo controlla Quindi Ottimo Oh mannaggia lui Tre anni Non me ne frega un cazzo Non me ne frega un cazzo Non me ne frega un cazzo Oddio 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 Tervice Ost bowls Sì